Ciao a tutti, dopo una lunghissima riflessione penso di aver capito chi sia stato ucciso da Negan. Ho voluto aspettare a fare il video proprio perché ho dovuto lottare con mille dubbi, fino a quando non ho sentito di aver raggiunto una specie di illuminazione. In altre parole sono finalmente convinto al 100%, ma andiamo per gradi. Abbiamo in ordine Eugene, Carl, Aaron, Sasha, Rick, Maggie, Abram, Michonne, Daryl, Rosita e Glenn. Mettiamo in chiaro subito che per quanto mi riguarda non ha senso provare a diciamo contare per capire su chi sia finita la filastrocca, dato che dalla scena si capisce che Negan si muove in maniera arbitraria, a zonzo tra i nostri beniamini, unendo anche le silebe del tipo Ambara, bacici cocò, saltando a volte tra un membro e l'altro del gruppo in ordine sparso. Così come non ha rilevanza la discusso ombra di Negan sul volto di Rick, che in teoria dovrebbe condannare uno dei personaggi alla sinistra dello sceriffo. Per chi non ha capito di cosa parlo mi riferisco all'ultimo taglio prima che Negan scelga la propria vittima. Si vede la sua ombra sparire alla sinistra del volto di Rick e quindi molti hanno concluso che la vittima sia da cercare tra Eugene, Aaron e Sasha, che si trovano appunto da quel lato. È però altrettanto chiaro che ciò che vediamo non accade, per così dire, in tempo reale. Sentiamo Negan contare, vediamo le facce e la telecamera che indugia un'ultima volta su Rick, ma ovviamente l'intenzione non è farci capire chi sarà la vittima, ma in generale l'esatto opposto. Tutte le inquadrature servono ad accrescere l'ansia, ma non sono sempre sincronizzate con la voce e i movimenti di Negan. Se vediamo Rick per ultimo è perché vogliono farci capire quanto il nostro amato protagonista sia devastato dalla situazione, ma state pur certi che non avrebbero mischiato le carte in tavola per poi farsi tradire da una stupida ombra che io e chissà quanti altri abbiamo notato già alla prima visione. E per me la prova di ciò sta anche nell'altro falso indizio, che in linea teorica dovrebbe avere lo stesso peso della suddetta ombra, ma che ci dà un'informazione apposta. Mi riferisco alla presunta visuale in POV di uno dei personaggi catturati e chiusi dentro il furgone, che ogni tanto ci viene mostrato durante l'episodio. Insomma, c'è chi si è convinto che dato che vediamo l'uccisione ammazzate dal punto di vista della vittima, allora il fatto che ogni tanto si guardi attraverso gli occhi di qualcuno tra Rosita, Glenn, Mishon e Daryl significa che uno di loro sia di fatto la vittima. Secondo me non è la visuale di nessuno in particolare, tant'è che la scena di quando vengono tirati fuori sembra proprio chiarire che si tratta di una visuale sì interna al furgone, ma posizionata troppo in alto per essere la soggettiva di uno dei quattro. Ma ripeto, per me questi sono indizi finti, che non a caso vanno in contrasto l'uno con l'altro. Lo so, c'è molta carne sul fuoco, ma spero che mi state seguendo. Cominciamo ad escludere qualcuno. Ovviamente Rick e Carla non possono essere la vittima, dato che, dopo aver scelto, Negan esordisce dicendo se qualcuno si muove strappate l'altro occhio al ragazzo e datelo in posto al padre. Non credo ci sia bisogno di spiegare qualcosa qui. Escludiamo poi tutti quelli lo cui morte sarebbe poco rilevante, o che comunque risulterebbe come una presa in giro decisamente eccessiva per gli spettatori il cui culo brucia già a sufficienza. Aaron, Sasha e Rosita, per quanto possano star simpatici a qualcuno, sarebbe deludente per chiunque scoprire che si tratta di uno di loro. Il discorso è simile anche per Eugene. Certo, gli hanno dato particolare rilevanza, ma si è voluto da codardo eroe, gli hanno fatto salutare Abram in maniera strappalacrime, e gli hanno fatto persino consegnare gli schemi per la produzione di pallottole come l'ascito. Nonostante tutto ciò, sarebbe comunque una delusione per la maggior parte degli spettatori. Adoro Eugene, ma è comunque un personaggio secondario e questo casino è stato tirato su per far fuori uno dei protagonisti. Insomma, tanta solennità ed epicità non verrà sprecata per un personaggio che può incontrare la propria fine in mille altri modi più commoventi che sconvolgenti. Ne rimangono cinque. Maggie probabilmente è l'unica che, anche con tanta buona volontà, non avrebbe potuto in alcun modo incassare come una campionessa, considerato che si regge a malapena sulle proprie gambe. Ma attenzione perché è proprio qui che voglio introdurre un punto chiave alla mia teoria. Secondo me, l'intera faccenda è una messa in scena. L'intento di Negan è di spaventare e capire chi sia la vittima migliore, la più adatta ai propri scopi. In pratica, come abbiamo potuto apprendere in quella stessa puntata, lo stronzo è molto intelligente e non sta lasciando nulla al caso. Lui vuole scegliere chi uccidere. Avete capito bene. Con la sceneggiata della conta, vuole semplicemente capire che tipo di legame intercorre tra gli amiconi di Rick e sfruttare la cosa a suo vantaggio. Vuole capire chi si trova davanti. È per questo che si dilunga in chiacchiere e cerca una reazione interpellando direttamente alcuni dei personaggi. Non gliene può fregar di meno, ad esempio, di far fuori una donna con già un piede nella fossa, ma la sfrutta come esca per vedere che tipo di reazione avranno gli altri e chi sia disposto ad intervenire. Così come non ha nessun interesse ad uccidere il leader remissivo al quale ha appena fatto lo spiegozzo. Ho suo figlio, dato che quest'ultimo funge da ulteriore tassello nel ricatto. Della serie ti ammazzo il figlio se non fai come ti dico. Dubito anche che voglia rendere Abram un martire, visto che quest'ultimo lo ha, in un certo senso, sfidato. Il discorso sul rosso in effetti è complicato, perché ho a lungo pensato che fosse lui a morire, e l'unico che bene o male sia stato promosso a vero protagonista da un po' di tempo a questa parte. Hanno però calcato troppo la mano nell'ultimo episodio. Un figlio con Sasha? L'abbraccio con Eugene? La possibilità di sacrificarsi da eroe proprio come tutti si aspettavano? Mi sembra uno di quei casi in cui troppi indizi diventano sospetti. Continuiamo con lo stesso ragionamento che vede Negan scegliere volontariamente chi dare in posto a Lucille. Daryl è già ferito, e quindi è possibile che ai suoi occhi egli abbia già assaporato una specie di punizione. Più che questo, ovviamente, nel caso del nostro palestrato-balestrato, il discorso diventa un altro. Il fascino di Dwight come cattivo sta al 90% nel conflitto che ha con Daryl, perciò non lasceranno cadere la faccenda nel nulla, così come non avrebbe avuto senso a quel punto che D gli sparasse. Qui potete trovare una teoria specifica in merito, ma in breve, sospetto che Dwight in realtà voglia aiutare Daryl, che, tra l'altro, non sembra poi molto sofferente dopo il colpo di pistola a bruciapelo a pochi centimetri di distanza. È un po' strano, vero? Come se non bastasse, gli hanno relativamente lasciato poco spazio e sicuramente non la faranno morire senza almeno dargli la chance di dire o fare qualcosa. L'altro personaggio che si trova in una condizione simile è Michonne. È stata marginale per l'intera stagione e non la taglieranno fuori all'improvviso. Da una parte, ricordo a tutti che sarebbe una specie di barzelletta se morisse la terza fiamma di Rick, già ora, considerato che sarebbe la seconda in una sola stagione. Ma non è bastato questo a convincermi. Penso sia impossibile che lo facciano nuovamente struggere per un amore perduto. Moltissimi trovarono noioso il Rick depresso e coltiva patate post-morte di Lori e non credo riproporranno qualcosa anche di solo vagamente simile. Per non parlare del fatto che l'unico momento importante che l'abbè coinvolta in questa stagione sia accaduto in occasione della morte di Diana e all'epoca il messaggio fu cerca di scoprire e ottenere quello che vuoi e desideri. Secondo me, semplicemente, nella prossima stagione, Rick sarà riluttante allo stare in coppie proprio perché sconvolto dello scoprire che, appunto, l'unione non fa la forza, diversamente da ciò che credeva. Michonne sarà una delle poche, secondo me, ad avere la forza e la lucidità per combattere e ottenere ciò che vuole. Ed eccoci qui, ne manca uno. È buffo perché nel primo video che feci su Walking Dead teorizzai sul fatto che Glenn fosse sopravvissuto grazie a Nicholas, azzeccando. Purtroppo questa volta non porto buone notizie o speranze. Perché proprio lui? Comincio ribadendo che solo uno dei veri protagonisti sarebbe potuto morire in uno scenario del genere. Ribadisco anche che Negan non l'ha ucciso a caso così come hanno voluto farci pensare. Purtroppo Glenn si è esposto. Ha tirato l'attenzione su di sé quando ha creduto che Negan potesse uccidere Maggie. Quale modo migliore per sconvolgere e sottomettere il gruppo di Rick se non lo spezzare a un legame così manifestatamente forte? Con quel pianto e quelle urla, Glenn ha appunto attirato anche l'attenzione dei suoi compagni. Ed era proprio ciò che Negan voleva. Uno show, uno spettacolo che necessitava di un protagonista. Glenn è il simbolo dell'unione che fa la forza. Che poi è uno dei temi ricorrenti di questa stagione. Mentre Negan è appunto colui che spezza questa unione. Assieme a Daryl è l'unico la cui morte potrà sconvolgere profondamente tutti i membri del gruppo. Perché non Daryl allora? Beh, è una questione di arco narrativo. Quante volte ancora sarebbe potuto uscirne vivo? Se fosse sopravvissuto, quante volte ancora avremmo dovuto assistere ai drammi tra lui e Maggie nelle occasioni in cui uno dei due si trovasse di nuovo in pericolo? Come avrebbero potuto anche solo rendere credibile una cosa del genere? Questo è il picco massimo per l'amore tragico dei due e l'unico modo per risolvere e prevenire altre mille scene in cui uno dei due si angoscia per la sorte dell'altro. È un dramma che ha esaurito le sue cartucce. Soprattutto dopo questa stagione che li ha visti a lungo separati e disperati. Per inciso, Negan non ha ucciso Maggie al posto di Glenn perché non è neanche il rancore che cerca. Ma io lasciare in vita la donna malata che l'uomo imbufalito è vendicativo. Nella settima stagione mi aspetto che i personaggi si dividano non fisicamente andandosene a spasso come nelle stagioni precedenti ma che il legame come gruppo venga meno. Questo cambiamento di ideali era già cominciato con l'arrivo di Morgan e i dubbi di Carol e penso che i sentimenti contrastanti e la paura non permetteranno ai nostri amici di lottare ancora sotto la stessa bandiera. Prima di concludere, uno spoiler sul fumetto. Se non volete sentirlo, chiudete ora il video anche se penso che ormai tutti lo sappiano. Negan nel fumetto uccide Glenn. Questo di per sé non significa niente perché nella maggior parte dei casi i ruoli dei personaggi si mischiano e in generale il telefilm prende quasi sempre una strada diversa quando si tratta di uccidere uno dei protagonisti. Basti pensare che alcuni dei personaggi attualmente presenti nel telefilm non esistono nel fumetto e viceversa. Non è dunque questo a farmi puntare su di lui ma, beh, tutto il resto. Ci hanno buttato un sacco di fumo negli occhi dividendo il gruppo una puntata prima della fine e farciando il tutto con tanti momenti che avevano il sapore di un testamento. Eppure, dopo averci ragionato così tanto mi sembra tutto così evidente. Grazie per aver visto il video. Spero di non avervi annoiato ma di avervi dato almeno qualcosa sulla quale riflettere. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!